Back in ETV Benvenuti a tutti qui Balconi TV Trento, io sono Fabrizio e oggi trasmettiamo dalla splendida terrazza del Rifugio Bindesi e siamo in compagnia dei Peggy Germs. Il brano che ci presentano è... I'm never coming back Perfetto, buon ascolto Perfetto, buon ascolto Perfetto, buon ascolto Perfetto, buon auch Perfetto, buon Ascolto Perfetto, buon ascolto Perfetto, buon ascolto No I don't know why, I don't know why I'm so alone I don't know why, I don't know why I'm never coming back And I will listen well So you can understand You love me anyway Guys, great, great energy I'm talking about Maurizio Of course Maurizio, talk a little bit about your band Present all the rest of the group We are Peggy Germs We are a band that has been a lot of years on the stage We have Mr. Alex Lorenzo Lorenzo Chitarra Silvano Paolo Ecco, suoniamo da tanti anni Facciamo questo genere di musica che si chiama Garage E abbiamo una pagina Facebook che è Peggy Germs E se trovate, insomma, se cercate su internet ci trovate Basta cercare Peggy Germs su Google Però noi vogliamo venervi anche dal vivo Ecco, quindi dove possiamo trovarle bene, tutte le date? Tutte le date vengono poi dette man mano sulla nostra pagina Facebook Perfetto E questo brano è inserito in qualche album? È inserito in qualche album? È inserito in qualche album? Cosa da aggiungere se volete dirci qualcosa, qualcos'altro? Che se non trovate i pezzi su YouTube, su Facebook, ce li chiedete e vi li regaliamo This is rock'n'roll Perfetto ragazzi, allora io ne approfitto di nuovo, vi ringrazio davvero tanto Peggy Germs Avrei anche un'idea per tutti i batteristi che vogliono farsi il logo sulla gran cassa C'è Paolo che lo fa di mestiere Grande, Paolo tu fai di mestiere questo? Fai stampa su qualsiasi materiale? Esperimenti anche sui fusti? Oh, questa è una meraviglia Beh quindi per tutti i batteristi sappiate che Paolo può stampare su qualsiasi materiale E sta pure provando a farli sui fusti della batteria Complimenti ragazzi Cosa volete di più? Beh con questo noi vi salutiamo Vi ringraziamo ancora Peggy Germs Vi invitiamo a seguire il nostro canale YouTube Di Balcony TV Trento e Balcony TV International E che dire, stay with us